Un passo avanti per eliminare un po' di burocrazia per i kosovari che vogliono spostarsi nell'area Schengen. Il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Josep Borrell, nella sua prima visita nei Balcani, ha assicurato che il Kosovo ha tutti i requisiti tecnici per facilitare i visti per viaggiare nell'area, ma non ha specificato quando questo accadrà. L'ho detto prima e lo ripeto, sarò molto schietto, dice il Presidente del Kosovo. L'Unione Europea ha commesso un errore strategico con la mancata liberalizzazione dei visti nei confronti del Kosovo. Questo isolamento, questa discriminazione è ingiustificata e impedisce un futuro europeo. Voglio credere che con l'energia, il potenziale e il coraggio di Borrell questa questione cambierà immediatamente. La vera missione dell'alto rappresentante è quella di avvicinare Pristina a Belgrado. Il mio dovere, il mio compito, il mio impegno, il mio obiettivo è accompagnare e facilitare i negoziati tra Serbia e Kosovo, perché il problema può essere risolto solo da Serbia e dal Kosovo. È un negoziato tra loro due e la soluzione si può trovare solo tramite un accordo tra i due. L'Unione Europea non sarebbe completa senza i Balcani, assicura Borrell.